che gratis è buono te lo bevi tutto quello che è tipico è 66 centili di caffè io ho un altro posto lasciamo Paolo per formare che è su una tre convincente quindi Leona Leona si contro Blitzcrank la schina ti salutano adesso la schina grande bravo però mi supporta sempre guarda ti regalo una cosa Luca posso dire una cosa? due grazie per i 22 mesi ma è il supporto mi hai fatto piacere LoL ha detto ma no cuori fatemi mandare i soldi ma no i cuori le sub dai gioca dai dai ciao grazie ragazzi voglio bene io vi voglio bene anche se se fanno cose improbabili ne ho bisogno senza zucchero non mi lo male sono molto fredde scusa sto facendo i soldi sono molto molto fredde ci facciamo i miei soldi io voglio uscire i miei soldi puoi spendere i soldi ti aiuto io a spendere i soldi non ti preoccupare grazie oh voglio lo zainetto di portato ecco spendiamo soldi è buona? ecco qui no non è il mio ok allora lascio lascio è venuto pure io ah sta facendo la foto ah se vinco pure questa sono sicuro challenge se perdo perso challenge sai cosa altraverso? eh ma sì però vado via ma non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno va bene autorizzato 1100 persone che ci guardano però non c'è nessuno e sanno molto carino il tipo della mostra sì e dava grazie e ha detto scusa ma ci sono quelle senza zucchero e lui mi fa sì ce ne sono due ha detto quella al mango che non sa di mango che ma l'altra è più buona secondo te hai fatto guarda te ne vedo entrambe e io grazie e ho pensato questo è amore sono tutta Paolo ha detto super amore a me lo strengo sono mostro quindi me ne devo andare per tenzione ma già ma me ne versi un po' per piacere guarda un goccio che mi ammazza no è verde è bella è la pipì di oltre è la pipì di oltre c'è una giulina bellissima io vado le sandra out per il piacere di Petra ciao baby ciao ciao ok ok ragazzi ragazzi qua a Patocio dici di ping in meno broker ok 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 Grazie. Venn non è male con te d'oro. Allora, il 2 si migrata in alto mi crea problemi. Non è il massimo, nemmeno così grave, anche perchè non ho preso la pastilla di calcio. Ciao Pozzoncine, siamo a posto. Mi chiami da maglietta in bella vista. Adesso. Marketing. Ok. Tanto non potrei ingaggiare, comunque è perso mio. Non so dove è tirando, posso ingaggiarlo probabilmente in bella adesso. Ma direi che è andata bene. Io direi di ammazzarmi, sai. Penso che è quello prima. Non muo, ah non c'è lecce. L'ho dato l'esperienza. L'esperienza si potrebbe essere io l'ho data. Non so se conviene. E' un consiglio che io arrivo prima a Midlane, ma ho dato l'esperienza appunto. Poi faccio tutto questo giro. Nessuno sa dove sono. Potrebbe esserci paraggi Kaisa. Potrebbe essere qui per uscire. Dovrebbe arrivare in ritardo Blitzcrank. Appena devi arrivare là io ci posso andare. Ma la Kaisa non va. Pilz è super Batman. E' una bella che è morta. Allora torniamo all'ovile. Dubbio che tornano a Midlane Blitzcrank. La wave qua l'ha spizzata. Questo io lo tanko io. Ok. Forse è la mia visione da WP. Non ho idea. Andiamo a Blitzcrank. La partita sembra molto molto difficile per loro. Come se ci devono trovare nel bot. E' Mid. Quella mora. Il tempo è paura. Il tempo per l'agnostione. L'abbiamo a Riasco. Corso. Questa è un attaccare. Questa è un attaccare. L'abbiamo a Riasco. E' tornato un bottone dopo 43 minuti Ehi King, ti posso importunare un po'? Sì, non mi importuni mai Siamo nel chilling, Leona contro Blitzcrank, abbiamo un buon pick tra noi ci cantano un po', gli altri invece non ci fanno paura, giocano probabilmente il lochettino Anche forse Kaiden non è un buon pick tra noi Noi stiamo farmando, vincendo già 15 CSMQ rispetto al nemico Ma che roba è agir top, brand mid, che game è Sì, è molto strano Ci dovrebbe essere Blitzcrank, se ci ammazza, nel 2v3 non lo vinciamo secondo me Cioè siamo forti, ma non così tanto più forti Non so se farmi i tab, visto che hanno AD AD 3 AP AD AD E AP I Mercuri forse sono meglio Ehm... 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 Gli HP hanno più value, cioè tu c'è uno scuro nel kit E' giusto Per quanto riguarda gli HP invece il controllo C'è HP nel kit, ti conviene fare armatura Molto sensato Di base E' bello che quando giochi a LoL pensi un sacco, no? Ti affetti, sembri un decerebrato, sembri tipo un anemone C'è... Immagino che non sono abituato Ma io faccio la stessa cosa, al contrario Immagino che... Sì Un po' come questo Ehm... Flame gratuito questo però dai Non mi ha troppo caldo Ciao Vanni Vabbè questo la clippiamo eh Avevamo fatto un flash Non ti aspettavano che... Avevamo capito Mentre salutavi Omar Di dove sei nelle Marche Civitanova Marche Civitanova ragazzi Ormai... Ormai Tremigiano Figa che sboro Che sboro Che sboro Ma poi leone è fatta apposta per tankare Cioè te l'ho detto Eeeh... Tanta roba In game del genere Tu sei una... Una... Manica di una felpa in bocca a qualcuno Basta Devi solamente dare passivi Ok... Chiaro Quello ingaggia Io ci sono davanti Non ingaggia più Eh ma non può volcappare così Ciao Xavier Da quando esistono le Marche Più o meno è allo stesso tempo del Molise ragazzi Quindi è molto poco La settimana scorsa In Italia Questa cosa in top è molto forte Se puoi muore anche a giro Incredibile Fu... Andato Pauvesina è molto più forte di Trandall Mi muovo verso la miden Ci hanno Blitzkamp Probabilmente topside Ne ropinghiamo Vediamo Eventuale reward Un mattimo di zoom Non esiste Esatto Non impegno una mano Molto bene qua Vabbè... In realtà... È even dai Si muore alla top Gli spende la T3 Eh bro Come? Gli spende la T3 No La T3 no Perché non c'è ne manco Gli arriva no L'araldo Però è discreto dai Poi le kill su di me non sono così grave È un 2 per 1 però in mid Poi non avevamo delmeno HP Con gli HP abbiamo tanto tanto valio in più Per un altro gioco Inoltre comunque loro fanno tanto danno magico E al momento non ne abbiamo no Ci dobbiamo certamente armatura Ci incontriamo di resistenza Ma in generale gli HP Non c'è parecchio pochi di support Leona in particolare Ma... C'è quando non sai che fare con un back Ah... Non l'ammazzino Q out E Q error C'è quello che vuoi fare Niente Male male Mi sciomale si Qui... Skyza potrebbe rimanere ma... Se non rimane Qui c'è blitzk Anche Facciamo la botta Anche Certo Una cosa bellissima Non è che dai Ma con la facilità E' estrema Questi qua non li danno 1v2 sotto torno Neomid però Torniamo a bot Ci deve essere anche il disco Ma lei fa finta di non saperlo Non lo prendo eh Ma lei deve essere avvenuto Comunque Ma lei deve essere avvenuto Comunque Questi hanno avvenuto Comunque Questi hanno avvenuto E' avanti Non mi si più avanti Ma E' avanti Non mi si più avanti Ma E' avanti Non mi si più avanti Però anche l'altro E' avanti . . . . . . . Stiamo tirando molto a gore Quello di WV non mi ammazza perché la vedo Immortale Paul Cannon No ma è a prova di scemo cioè non muori mai quelli di grab muoiono loro 1100 Qui si trovano totalmente l'impianto audio non hanno idea di come toccate Una e due Ma poi c'è Giovanni così a spam Sono stato a vedere 5-10 minuti dello spettacolino di Kpop Sì e com'era? C'erano un sacco di ragazzine inferpolite sotto al palco Ah chi c'è da Kpop? Non lo so non conosco Ma erano famosi? Eh non credo No c'era un po' di gente insomma guardate Non da famosi No Ci troviamo al B-Comics a Padova Piera del frumento di Padova Saremo qua anche domani Saremo qua anche domani Ciurma Penso che ti tocca elevare il mod per sta roba Babbà Com'è? Non mi che è colpa mia Eh ho capito L'IRL non funziona proprio L'IRL non è l'IRL non è il Carazzo Come ora? Ti immagino Bah ce l'ha visto Eh senti piano Ciao Paolo un bacino dove vuoi tu? Cioè il mio oltre non muoio Non è il Dato questa Senza vita Che sfiga c'era questa Ne poto col vetro in mezzo no? E' giustissimo Invece non è molti la panna No Per esempio la panna per il team Eh oggi ci siamo stati molto fortunati qui a Padova Ti è ancora un bacino Gerry Ciao Gerry Grazie per i due mesi King Ciao Simo è un piacere verti qua in live Scusa se non ti è estratto Baciano, è stupido. Più di così è difficile, ragazzi, per i rumori sotto fuono. Anche perché li sentiamo noi, non sono proprio sottofondo. Anche perché lo vedete, no? L'ambientazione della stanza. Più di così è... si può far foto. Bella sta R, oh! Ma carino, fanno la pena. Ops. Guardate che è sto. Più di così il cemento armato davvero. Che sfiga. Eh, potevano non darla quella d'estate. Eh no, sono un tempo in trovato che non la dà. Vabbè, dai. Magari ballerà comunque, se non sono sicurissimo. Eh, mi sa che non ballo. No, devo farlo. No, devo farlo. Grazie, King. Nooo! Nooo! L'attratore! Ma, ce l'ho messo proprio. Però faceva meno danni di quello che ti stava colpendo, no? E comunque era buono. Eh, ma dovevo lasciare? Oh, che vero. Ma... Ma i tuoi teammates vanno a vincere, comunque. Andiamo a sentire di sparghi, vincere. Mi vanno a vincere. Mi vanno a vincere. Eh, ma l'hai detto che... Ma che c'erano tanti mio, si deve ammazzare prima, è morto. Porta di vita. Che abbiamo... Che c'è il tuo omnivamp? Ok. Ti ha un shot tag. Oh! Tac, 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 tac. Mi pare il culo. Sa che le spotlights sono qui. Ma... Tic, tac! Tic, tac! Tic, tac! Oggi comunque dei game tutti veramente... Facilissimi. Ma tutti vinti o anche open da parte tua? No, tutti vinti. Tutti vinti. Ah, tutti vinti. Vabbè, veniamo più spesso a giocare a Padawan. Hai il ping che è più basso. Hai il Padawan? Davvero? Sei serio? Se ti ci ping in me non c'è. Ma? Ti ci ping... Eh...